Eeeh risalve Eeeh audacity Bravo Eeeh risalda a tutti Lui è? Lui è? Io sono l'io E lui è? E lui è Brex E oggi come avevamo accennato Cosa ridi sotto i pochi? Lui ride già, vede le onde di audacity Le ondine Sto già ridendo cioè Come avevamo accennato nell'altro video Quello without my emotion 3 Il terzo Oggi sarà in buon gioco Che è stato fatto in così tanto tempo Che me lo sono addirittura dovuto appuntare Sulla cartella Zombo 2 fatto in 3 giorni 3 giorni Rendiamoci conto Nella cartella all'interno Il file eseguibile Si chiama ex.exe E c'è l'icona Indovina di cosa? Di unity Esatto Fatto in 3 giorni Bellissimo Ah non hanno avuto il tempo Giustamente di creare un'icona In 3 giorni E di dare un titolo al gioco Capito? Però a differenza di without my emotion Questa volta posso mettere la risoluzione a 1920 Ah buona dai Buona dai Ci sono dati da fare In 3 giorni eh In 3 giorni hanno messo la risoluzione a fiestra però Per la dimensione schermo Esatto No f9 Allora Sigla Ah giusto Allora Sketchy games Niente male come menù Sketchy games Ah no Sketchy games Sketchy proprio E' il nome degli sviluppatori di Spencer Ma è un menù così brutto E' difficile eh E' essenziale capitano E' 3 giorni Ok Last to move QE Weapon Cioè Vabbè Sparo con QE O le cambio? Vabbè Ah no Con left click Con click sinistro Ok E click destro Slow motion Slow motion Forse vai a passeggi Rallenta A passeggio Vado a passeggio Esatto Ci sono gli zoom Vado a passeggio col tasto destro Eh sì Questo gioco ha vietato mirare col tasto destro Eee Si può sprintare con shift Esatto Direi play Immergiamoci nell'immondizia Allora Mamma mia Score zero Si viene un po' male ma c'è scritto score zero in alto Sta arrivando un missile Cos'è in basso a sinistra un cuore? Si Guardi questo Cosa sono? Crepitio Dio E' un aereo E' un aereo che sta precipitando Ma noi siamo in una specie di arena Era Praticamente si vedeva la sagoma oltre le sbarre che stava precipitando Cioè nel vuoto Intorno abbiamo un buco nero Cos'è abbiamo intorno? Si Ma io sento tipo Quel fuoco Si può crepitire Eh passettino Questa è una macchina carbonizzata Una statua così in mezzo Si Giusto per aggiungere, per riempire un po' lo spazio Ah Io ho notato che se giro l'audio visuale l'audio si interrompe Si Ah è vero Ma Cambi arma Ok Oddio senza ricordo Mamma Un cespuglio Così Gli andava di decorare l'ambiente Ok tre giorni per creare un ambiente E i nemici Che poi scusa mi stavo chiedendo una cosa C'è scritto Se si chiama Zombo2 Esiste anche l'uno Ah è vero E' vero Dobbiamo cercare Dobbiamo documentarci su questa cosa Ah ecco Vai dietro al muro Secondo me non era prevista questa cosa Dici? Oddio Nooo Si è vero Questo è Unity Oddio guarda Nooo Il proiettile che parte da mezzo metro dalla canna Si Munizioni infinite Aereo Aereo Si è continuando a cadere No scherzo E' bloccato Ah è dello stesso colore capito Quindi non vedi Non lo vedi Che poi sto usando un fucile a pompa eh Vedi che fa Sembra un raggio laser E' aggrappolo tipo Io devo fare altri F4 No esci riavvialo Per chi uno potrebbe Guarda che in tre giorni cosa pretendi No Perchè in tre giorni c'è chi Non so se ti ricordi RaceFriend Certo che me lo ricordo Che quello lì se l'ho fatto magari non in tre giorni però Era anche divertente No se l'ho fatto in due giorni 48 ore è stato fatto Si due giorni Due giorni E quello era che A parte i pug E le ruote che si non ficcavano Nel Nel Nella strada però Era molto divertente Era divertente Si 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 L'aereo che cade Se non lo Ecco quello lì Monodexture Qualcuna fattora A dark bar Bellissimo proprio Sparo singolo scusa eh Allora Allora I nemici Dobbiamo aspettare Oppure Score zero Vabbè è parzialmente Tagliata la scritta Perchè più Perchè stiamo giocando a finestra Altrimenti il programma di registrazione non parte Con questi giochi va sempre in conflitto Cioè ci sono quattro gabbie Agli angoli Se non Non ho visto male Oddio Ah no Pensavo di essermi compenetrato La sensibilità è altissima eh comunque Ah può entrarci addirittura Ti ricordi i primi giochi che abbiamo portato sul canale Che erano come questo Vuoti senza niente Si E noi stavamo commentando il nulla Certo ti ricordo Ah ecco è partito qualcosa Oddio cos'è questo poligono della statua che Vabbè E' partito un suono Abbiamo quindi Abbiamo fatto progressi Si si Speriamo Stop Oddio cos'è Eccolo Eccolo finalmente Cioè era anche l'ora Oh le animazioni non sono male però eh No Gansel Cioè Occhio c'era uno Oddio Oddio C'è da rivedere un bel po' di cose eh Si è sotterrato praticamente Occhio che arrivavano anche dall'altro angolo eh Mh mh Allora gli zombie sono vicini sono orri- Sono orri- Cioè sono veloci Sono orribili No No l'ho fatta apposta a colpire perchè volevo vedere se la vita si rigenerava No 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 via No non si rigenerava No in solito Una cosa veramente fastidiosa è l'eccessiva Cioè ma in terra e muore come se fosse in piedi capito? No no ecco adesso sono troppi però Cioè arrivano da tutti gli angoli praticamente Cioè il gioco è tutto qua eh comunque Bello Non ci sono gli headshot a quanto pare? Eh no mi sa proprio di no L'unica cosa che mi piacchia sono le animazioni anche se sono tutte uguali Si alla fine si sono tutte uguali Anche i modelli degli zombie sono tutti uguali Oddio ma Ma muore? No Le hitbox fanno schifo però eh Eh si si Se l'hai dietro mi sa Dio Mi salto Si questo mi da fastidio dopo un po' eh Si in effetti si Adesso voglio provare questo colpo singolo vedo se è più forte Si Oddio con uno solo Sembrano mucche però eh E se ti colpiscono voli Fantastico Prova ad attirarli Però guarda è da lontano non gli fa niente guarda eh Eh non gli siamo Visto? Eh Prova ad attirarli al margine della mappa Vediamo se... Se cascano tutti insieme Oddio la pioggia degli zombie Esatto Che tanto questo muro qui ce l'aveva le collisioni non mi ricordo male io Cioè Se ci vai contro ok prova allora No è quello dietro È quello dietro che non ha le collisioni Andrà Proviamo a vedere se... No no fermo fermo aspetta Aspetta Oddio Non cadono No scappa scappa No non cadono loro no Perché? tigers no 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 E' ingiusto da part... Per loro è ingiusto Era l'unico divertimento questa no Oddio Abbiamo speso anche troppo tempo qua sopra Questo era Zombo 2 fatto in 3 giorni Qualcosa di veramente orrido Fatto in 3 giorni e giocato in 8 minuti Bravo In alto a sinistra Alla vostra sinistra che dovrebbe essere In uno dei 4 angoli del schermo Vi mettiamo un vecchio video che abbiamo fatto io e lui Che era appunto Race Friend Che è un gioco che è stato fatto in 48 ore, 2 giorni Ed era molto molto carino e divertente Merita quello di Merita E apro una parentesi Quel gioco poi l'avevano portato a una versione successiva Correggendo i vari bug L'avevano messo su Sting Green Light Ai tempi L'hanno fatto rimuovere Come mai? Non lo so Forse non aveva ricevuto abbastanza voti Per essere passato Ed è un peccato E se vai a vedere su Game Jolt Ci sono anche alcuni che li fanno dei commenti Che li insultano Addirittura? No Tipo andate a cagare così Io sotto gli ho scritto Ma vai a giocare a Counter Strike in camper mode In inglese Vabbè Ragazzi Per questo è tutto E noi ci becchiamo Alla prossima puntata Sì Sì DANG 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 finale